Comandante Zavala, acconsentiamo al rito della prova, i cabali inviano il loro campione. Sfida accettata, che il nostro sangue scorra insieme e ci conduca all'unità. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mio campione attende al posto d'onore. Perché strisciate nelle aree di manutenzione? Affronteremo il tuo campione a tempo di... ma potremo distruggere il carro lungo la via. Siamo Caval. Divoriamo le montagne. Beviamo gli oceani. Cercate di colpire al cuore il mio carro? Le mie truppe lo difenderanno, a rischio della vita. Sì. E noi siamo qui per fermarli. Grazie a tutti. 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 Ora vedo come combattete, guardiani. Ma il vostro comandante sta sprecando il vostro potenziale. Basta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.